Il 2018 ho avuto la possibilità di partire con un progetto Twitch Lucca, nuovo, totalmente nuovo, perché in Italia la piattaforma era appena arrivata e non c'era questa grande popolarità del social di Amazon. È stata un'avventura, perché noi siamo partiti da un modello di racconto-intervista, ma in realtà poi abbiamo scritto, grazie al team, un format, un format vero e proprio, che ha raccontato per 5 ore al giorno tutti gli eventi, per 14 paichi in diretta all'evento di Lucca Comics & Games. Chiaro è che quello è stato l'evento iniziatore di tutto, che ad oggi dà la possibilità a nuovi creator di raccontare Lucca, ognuno alla sua maniera. Il futuro quale sarà? Sarà sempre di più la possibilità di raccontare da diversi angles, da diverse angolature, diverse capacità, e anche di raccontare delle storie. Perché Lucca non è soltanto una diretta, non è soltanto un format, come magari noi abbiamo cominciato a sperimentare nel 2018, ma è tanti punti diversi di appunto raccontare quello che è il mondo dell'arte, quello del mondo dei games e chiaramente anche dei comics. Amici Lucca Comics & Games, ci vediamo l'anno prossimo, quello dopo, quello d'altro ancora, ma soprattutto, forza e coraggio, ci vediamo qui, di fianco, in questa fantastica città.